Ok Perché ragazzi ho deciso di fare tipo una settimana di pack opening nel senso che ogni giorno cercherò di caricarvi un pack opening Pack opening di che cosa? Dei pack speciali che l'EA che FIFA metterà quindi oggi sono qui infatti a visitare il pack opening di questi pacchetti se non erro Ce ne sono due da 25.000 e altri due da 35.000 però una cosa devo dirvi Dato che questi li ho già aperti ieri e forse domani escono i centrocampisti del team of the year preferisco tenermeli per domani Comunque nel caso in cui non escono domani i centrocampisti glielo aprirò appunto nel video di domani Quindi oggi noi passiamo direttamente a quelli da 35.000 crediti Come potete ben vedere i miei crediti sono passati da 1.100.000 che erano ieri a 636.000 Questo vi fa capire quanti pacchetti ho perso Trovando che cosa? Trovando un assoluto nulla E poi vabbè ragazzi se volete comprare i crediti di FIFA passate mi raccomando andate a comprarli da FIFA con la stessa appunto quel sito che io consiglio Che è ovviamente affidabilerimo e veloce cioè voi comprate i crediti dopo pochi minuti solitamente vi arriveranno Comunque ragazzi partiamo subito quindi E vabbè questo video durerà 4 minuti Ecco se voi non volete perché dite Axel sono solo vacuni non lo vogliamo Fatemelo sapere io spero di no perché comunque ho visto tanto quello di dire tipo è già 2000 mi piace quindi è piaciuto Comunque fatemi sapere se vi piace questa idea oppure no Quindi ragazzi mia mamma mi sta chiamando e noi apriamo lo stesso Dimmi Non era per me E andiamo allora Mamma mia Primo pacchetto con i capelli con la tonda Vediamo Voglio un toti No Che schifo Dio santo buttatevi da 35.000 crediti che due palle Primo pacchetto è andato ragazzi Cioè sto guardando lì ma sto appunto vedendo quanto far durare questo video E quest'ultimo pacchetto di oggi Da 35.000 crediti Io direi di fare una cosa Dobbiamo girare sulla sedia Applaudire tre volte le mani come gli hai detto E andare sul negozio Dopo essere andati sul negozio bisogna fare degli pacchetti Dai Questo è il pacchetto Col naso lo apro col naso Quindi 35.000 E andiamo via I ragazzi Ora io non guarderò Non guardiamo Ho aperto Io ho aperto Ma è questo Posso aprire? Tre Due Uno No Ma è un allenatore Seidoth Come fa a esserci nel gioco Non ci posso credere 70.000 crediti Popop Buttati Che due palle Abbiamo entrato San Nino allora Cioè ma dai Cioè su Ma Guardate quante cose inutili Una Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Unici Tos Tre Quindici oggetti inutili Horror Ma dai E ragazzi Io questi pacchetti Ve lo sconsiglio La grande Ho appena buttato altri 70.000 crediti Cioè io ora Della fine Della fine Della fine Della fine Della fine Della fine Comunque ragazzi Detto questo Spero che questo Veloce video Vi sia piaciuto Mi raccomando Fatevi sapere Se vi è idea di fare Un pack opening al giorno Aprendo i pacchetti speciali Per appunto Fare vedere Se sono Se sono utili Oppure no Vi piace Se vi è piaciuta E quindi ragazzi Per adesso È utile comprare Il pacchetto Un altro Team of the year No Questo perché Perché ho speso All'incirca 600.000 crediti Non trovando Niente Quindi Niente Questa Stattica Quindi ragazzi Detto questo Vi saluto E vi dico Potenta Parla Al prossimo video Bolla Ciao